Un solo perché questo dovrebbe chiedere all'arbitro. Io ho soltanto chiesto il rispetto del fatto che quando la palla va fuori ci devono essere i palloni dietro perché sennò qui il portiere è andato sei volte a prendere la palla fuori quando la palla magari l'aveva dietro la porta. Secondo me qui il problema è che l'arbitro doveva far rispettare i tempi lasciando i palloni dietro la porta come ci fanno fanno la ponte a serie. Quando ci sono questi campi dispersivi in questa maniera così dobbiamo fare perché in questa maniera se no si gioca meno un quarto d'ora o meno 20 minuti non mi sembra corretto. Primo tempo molto tirato da parte di tutte e due, pochissime emozioni, avete preso gol nell'unica palla inattiva, poi ci avete provato nel finale ma da davanti vi è mancato qualcosa? Davanti ci è mancato qualcosa, abbiamo trovato sicuramente una squadra, una linea difensiva molto ordinata che ha badato al sodo senza tanti fronzoli, che ha respinto ogni pallone che è arrivato stando bene fisicamente e sono anche a corti. Noi non siamo stati abbastanza incisivi, non abbiamo mai trovato lo spunto per riuscire a impensierire il portiere in maniera adeguata, solo alla fine con la forza e la disperazione siamo riusciti un pochino a mettere un po' di apprezzione. Purtroppo abbiamo perso sull'unica situazione che poteva diventare un gol, abbiamo sbagliato qualcosa, probabilmente lì qualcuno ha sbagliato qualcosa, però abbiamo preso su una palla inattiva, poi mi sembra che il nostro portiere non abbia fatto una parata. Nel secondo tempo? Purtroppo sono un contropiede, chiaramente noi eravamo tutti in avanti e quindi ci può stare quello. Abbiamo fatto una buona prova a livello difensivo, non abbiamo avuto quel coraggio che probabilmente serviva nel primo tempo, anche noi siamo una squadra giovane e di questo poi noi soffriamo un pochino. Sapevamo di affrontare una squadra che non meritava assolutamente la classifica attuale, se no magari possono avere qualche problema a fare le reti, ma è una squadra che riesce a fare un gran gioco, gioca sempre per la terra, forse è una delle squadre che gioca per lo meno qui a Latrine, è meglio il calcio di essere visto, anzi colgo l'occasione per fare un premio anche all'allenatore. Mentre noi sì siamo andati in vantaggio, poi non è tanto stato il 2-0, ma per nessun tempo siamo andati in difficoltà perché avevamo fuori quattro persone tra squalifiche e infortuni, due rientravano oggi e non sono riusciti a finire la partita, quindi si è finito un po' sulle gambe e fortunatamente siamo stati bravi a portare a casa il risultato. È uno sprint ad eliminazione ogni settimana, però è uno dei campionati forse più belli della promozione degli ultimi anni. Sì, dai. Comunque vado a finire, poi chiaramente se lo vincete voi sei meglio. No, è un campionato molto equilibrato dove in effetti gli ultimi due mesi le prime della testa tengono veramente un ritmo impressionante, basta vedere che noi si vengono da 5 vittorie di fila e nonostante questo siamo ancora tutti lì, quindi mancano 6 partite e penso siano veramente 6 finali.